I parenti potranno visitare i loro cari nelle RSA anche ogni giorno e per un tempo massimo di 45 minuti. È una delle novità introdotte dalla circolare del Ministero della Salute che la Giunta regionale ha recepito con una delibera approvata nell'ultima seduta. Due le novità rilevanti, la prima riguarda la frequenza delle visite, l'accesso alle RSA e alle residenze assistenziali per persone con disabilità è possibile tutti i giorni della settimana, anche festivi, e potrà svolgersi in un tempo congruo stimato in un massimo di 45 minuti. La seconda novità è relativa alla possibilità per gli ospiti di uscire dalle strutture. Sono infatti consentite le uscite temporanee senza che sia necessario, dopo il rientro, ricorrere a specifiche misure di isolamento. Fondamentale però per ciascuna di queste misure sarà l'esibizione del Green Pass, la comprovata guarigione dall'infezione o ancora l'effettuazione di un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Quello approvato in giunta è un ulteriore passo in avanti per le visite nelle RSA e nelle altre strutture residenziali. È il commento di Serena Spinelli, assessore regionale alle politiche sociali. Ora il recepimento della circolare ministeriale permette di rendere più fluido l'accesso e di intensificare le visite. Questo apporterà certamente benefici agli ospiti e farà sentire loro che l'isolamento è finalmente e speriamo definitivamente finito.